Volete giocare al TCG di One Piece in una location a tema? Siete degli aspiranti re dei pirati e volete letteralmente prendere il largo dando il via alla vostra avventura? Quale occasione sarà la più adatta quindi per unire il TCG a tema piratesco con l'odore del mare lì ad accompagnare ogni vostra mossa? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Siete pronti a mollare gli ormeggi? Nei giorni scorsi sono stato contattato da Alessandro, membro di MSC ed appassionato di lunga data dei TCG e nello specifico One Piece, che mi ha proposto di parlare attraverso un video dedicato di un evento che vedrà letteralmente lo scatenarsi delle ciurme più pericolose e battagliere che navigano tra le acque del Grande Blu proprio in mare. Mi spiego meglio. Per chi non lo sapesse, MSC è uno dei più famosi marchi al mondo per quanto riguarda le crociere e ha una flotta di navi immense che fanno il giro del mondo permettendo a chi ne usufruisce di visitare luoghi meravigliosi e pieni di novità. Ebbene, proprio a bordo di una di queste navi si terrà l'evento che più di tutti si avvicina allo spirito vero e proprio del gioco di carte basato sul capolavoro immortale del maestro Oda. E nel video di oggi comprenderemo appieno quali saranno i vari passaggi da seguire per riuscire a prendere parte a questa avventura al momento unica nel suo genere. Ma chi organizzerà questo torneo Arconte? I signori di OP Cruis che si specializzano nell'organizzazione di tornei dedicati allo sconfinato universo dei TCG, distinguendosi per le location esclusive e mozzafiato che mettono a disposizione dei partecipanti, trasformando ogni singolo evento in una vera e propria esperienza indimenticabile. Ebbene, grazie all'impegno congiunto di diverse realtà si sta preparando un torneo che sono certo resterà nella memoria di moltissimi aspiranti re dei pirati. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i passaggi da seguire e se si vorrà partecipare al torneo organizzato dai signori di Hoppy Cruise. Andiamo a dargli un'occhiata. A bordo della Magnifica, nome della nave che ospiterà l'evento, potrete godere del meraviglioso mix di stili d'arredamento che caratterizzeranno gli interni, dove le sfide mozzafiato tra le ciurme più pericolose dei Sette Mari avranno luogo. Infatti nella sala ristoro, splendido scenario per dare fuoco alle polveri, tutti gli aspiranti re dei pirati combatteranno per contendersi la vittoria finale ed il titolo di imperatore del mare, avendo comunque la possibilità di usufruire delle attrazioni che la crociera avrà da offrire. Ma svaghi estranei e a parte entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda l'evento. Il tutto avrà luogo a partire da Barcellona, dove si salperà alle ore 18 del 28 novembre, con arrivo previsto a Genova alle ore 8 del 1 dicembre. I prezzi delle cabine verranno distinti come segue, 375 euro euro per la base, 425 euro per la superiore e 475 euro per la VIP. Sarà garantito mezzo box a partecipante, al momento però tale notizia è ufficiosa, in attesa di avere ulteriori conferme da parte di chi metterà a disposizione il monte premi, quindi potrà essere addirittura più dello stabilito. I biglietti saranno non rimborsabili, ma vendibili tramite approvazione degli organizzatori e vedremo fra poco le modalità. Ed ultimo, ma non per importanza, ci sarà una sorpresa per i partecipanti che utilizzeranno il tag hashtag Arconte durante la fase di iscrizione, che scopriranno una volta arrivati a bordo della Magnifica. Sarà da notare inoltre che gli eventi saranno organizzati da giocatori per giocatori, si dovranno quindi intendere come tornei casual, non ufficiali e che al momento non prevedono partnership con Bandai o altri brand. Ora, dopo aver visto alcuni aspetti del torneo, esploriamo quelli che riguarderanno la parte organizzativa vera e propria. Si tratterà di un evento esclusivo con un massimo di 256 partecipanti. Il pacchetto acquistabile sul sito offre cabina con pensione completa, bevande escluse, l'iscrizione al main event e le assicurazioni. L'evento sarà interamente a bordo di MSC Magnifica. Oltre al main event, che sarà diviso in due giornate, vi saranno anche side event per i player che non riusciranno ad entrare nella top dopo il day one. È prevista una ricca griglia di premi per la top, ma non mancheranno le sorprese anche per i restanti player. Tutto l'evento sarà trasmesso in streaming. Al momento della prenotazione del biglietto andrà versata la quota richiesta come da istruzioni che si troveranno sul sito. In un secondo momento andranno poi forniti i dati personali del player che parteciperà. Verranno organizzati dei qualifier in alcuni negozi selezionati che avranno come premio un biglietto di partecipazione per l'evento. Il biglietto in premio sarà cedibile al vincitore, ma il cambio di nominativo andrà comunicato allo staff di Opie Cruis entro un mese dalla data di partenza. In caso di impossibilità del giocatore di presenziare all'evento, Opie Cruis non sarà in grado di rimborsare il biglietto, ma entro un mese dalla data dell'evento sarà possibile comunicare un nuovo nominativo. La partenza è il 28 novembre alle ore 18 da Barcellona. Lo spostamento su Barcellona sarà a carico del player. L'arrivo è previsto il primo dicembre a Genova. Di certo questo evento fornirà quello che i diversi local e tornei di caratura maggiore non hanno ancora mai fornito, ovvero giocare al TCG di One Piece per mare, ricreando appieno l'atmosfera che vede Cappello di Paglia e Ciurma, navigare qui e là per la rotta maggiore. Prima di concludere vi lascerò in descrizione tutti i link necessari per prenotare il vostro posto a bordo, la panoramica della crociera che ospiterà il torneo organizzato dai signori di OP Cruise e il sito web di questi ultimi. Quindi coraggio aspiranti re dei pirati, preparatevi per questa nuova avventura a bordo di una vera nave impiegando il leader che più vi rappresenterà durante quelle due giornate di evento, sbaragliando ogni avversario che vi si ritroverà contro, gettando sia lui che tutta la sua ciurma in pasto ai pesci. E voi acquisterete il biglietto? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.